Torna in piazza per il secondo anno consecutivo e chiama a rapporto il cittadino responsabile il Festival della Cittadinanza, l'ex Civitas, il Salone del Terzo Settore, che quest'anno ha come slogan il Tempo della Responsabilità. Dal 6 al 9 maggio Padova vedrà 50 eventi dedicati al cittadino responsabile per quanto riguarda l'ambiente e il territorio, la cultura, la creatività e l'impegno sociale proprio in questo momento di crisi. Puntiamo sul cittadino responsabile, cittadino responsabile a partire da quando deve pagare il biglietto del tram, quando deve rispettare i pedoni, a quando deve comportarsi bene dal consumatore, risparmiatore. Questo crediamo sia il modo per affrontare la crisi, che i cittadini, le imprese e le istituzioni si assumano le loro responsabilità. Da segnalare in particolare la collaborazione con Educa, evento riflessione nazionale dedicato all'educazione propositiva, la concomitanza con la prima giornata nazionale della bicicletta e alcuni convegni importanti sull'economia piuttosto che sull'accoglienza, crederà anche la presenza del ministro Sacconi, oppure il last minute spritz con alimenti in scadenza e una sceneggiatura teatrale a tema con Massimo Ciri di Caterpillar. Senz'altro l'abbraccio, lo riproponiamo anche quest'anno, è un evento nazionale in collaborazione con il laboratorio educativo e permanente, lo faremo domenica pomeriggio e poi mi pare che ci sia l'altro evento importante, meno SPR, più ECO, con Ciri di Caterpillar.